Arte Jeans, una mostra del denim della prima edizione di Genova Jeans, alla quale ha partecipato anche la scuola Duchessa di Galliera. Sì, le studentesse infatti dell'Istituto Superiore Duchessa di Galliera hanno collaborato con Claudia Losi per la realizzazione di quest'opera intitolata Il sole ci ha dato la testa. Il processo creativo e ideativo che Claudia Losi mette dietro l'opera nasce da quella che è tutta la dimensione manuale del lavoro che ci fa anche riscoprire tutto il nostro essere umani e la natura umana. L'artista infatti collabora con le ragazze alle quali chiede esplicitamente di rattoppare gli strappi da lei realizzati sulla tela Candiani. Diventa quindi un modo per ricucire e recuperare quei rapporti che anche in un periodo difficile come quello che ci siamo trovati a vivere, visto che l'opera è stata realizzata durante i mesi di lockdown, rappresenta perfettamente in chiave artistica una buona metafora di come grazie all'arte e alla collaborazione si vanno a recuperare storie e rapporti che possono essere stati anche logorati. Il titolo in particolar modo deriva da una delle chiacchierate che l'artista fa con le studentesse, infatti partendo proprio dalla questione dell'arte del ricamo è un'attività che avviene insieme, chiacchierando, parlando e il titolo deriva proprio da una delle chiacchierate delle ragazze con la nostra artista. Ovviamente anche a livello di profondità concettuale il fatto di lasciare l'esito dell'opera e del completamento dell'opera nella mano di terzi dà ancora di più una valenza al significato dell'opera di Claudia Losi.